Questa è Addis Abeba, in amarico significa nuovo fiore. Fu costruita 60 anni fa tra i boschi dell'altipiano d'Etiopia a 2700 metri d'altezza dall'imperatore Menelik II, il Grande, in omaggio alla bella moglie Taitù. Oggi Addis Abeba conta circa mezzo milione di abitanti, numerosa è la colonia degli stranieri, italiani, greci, armeni, inglesi, francesi, svedesi, russi e americani. È una città cosmopolita ed è sede dell'Africa Hall, l'ufficio regionale dell'ONU, che sorge a pochi passi dal palazzo del Giubileo. Qui vive una tra le più antiche dinastie imperiali. Per queste strade il 5 maggio 1936 le truppe del maresciallo Badoglio entrarono in Addis Abeba. Di quei legionari molti non sono più ritornati in Italia, sono rimasti qui perché il negus negesti ai lesse lassie, al ritorno dall'esilio, li invitò a restare. Le loro attività commerciali e il loro lavoro hanno potuto espandersi e svilupparsi e sono visti con simpatia. Da quanto tempo è qui lei, Nati? 26 anni. Si trova bene? Non c'è male. Come mai ci sta ancora? Quando i mesi non permettono di andarsene ci si sta. Senta, non ha nostalgia di casa? Nostalgia sì. E lei? Tornerei volentieri in Italia. Lei ha nostalgia dell'Italia? Ma neanche per sogno, non ci penso neanche. Non ci tornerebbe? No, tornerei ma con dei gran milioni. Questo è un paese di incanto. Sono sposato qui, i figli sono nati qui, quindi è un po' il mio paese. E il suo lavoro viene ostacolato in qualche modo? No, no, anzi molto agevolato, le autorità sono comprensive e devo dire che è il paese ideale per gli investimenti stranieri. I rapporti con l'Etiopia sono molto buoni, molto cordiali. Abbiamo avuto dei momenti terribili all'occupazione inglese e con l'avvenuto insomma sta l'imperatore Elisa Rasier che ha protetto molto la colonia italiana. Ci siamo trovati molto bene da allora. Lei fa il barbiere, vero? Sì, barbiere. E da quanti anni? Sarà 25-26 anni. Sempre qui in Etiopia? Sempre qui a Lisabeba, sì. E come si trova? Abbastanza bene, grazie. Il suo lavoro va bene? Sì, tutto bene. Senta, che cosa ne pensa lei dell'imperatore? È una persona a posto, veramente molto a posto. Verso tutti noi italiani ci ha sempre avuto un occhio di riguardo. Vuolo molto bene agli italiani. L'imperatore d'Etiopia, tra il lei se la si è primo, ha risposto ad alcune nostre domande. Possiamo chiedere alla vostra maestà se considera soddisfacenti gli attuali rapporti fra il suo paese e l'Italia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. due i governi e noi abbiamo fiducia che questi rapporti possano ogni giorno di più svilupparsi e migliorare. In quale misura gli italiani collaborano con il loro lavoro allo sviluppo del suo paese? Gli italiani che abbiamo trovato qui dopo il nostro ritorno in Etiopia hanno collaborato in questi vent'anni in misura assai soddisfacente. Dobbiamo aggiungere che molti italiani che lavorano nella nostra corte si sono dimostrati leali in ogni occasione e lavorano e vivono tuttora con noi in una armonia che ci rallegra immensamente. Alcuni giornali italiani hanno parlato della possibilità che vostra maestà possa venire prossimamente in Italia. C'è qualche cosa di vero in queste voci? Abbiamo un grande desiderio e da lungo tempo stiamo progettando di visitare l'Italia e pensiamo che ciò sarà attuato non appena si presenterà il momento opportuno. Vorremmo farle ora una domanda un po' personale. Sappiamo che la vostra maestà legge spesso la Divina Commedia. Potremmo chiedere quali sono i versi che la interessano di più, che le piacciono di più? La Divina Commedia di Dante, anche se noi non la ammirassimo, è un'opera colossale che tutto il mondo conosce ed ammira. Tuttavia, ciò che più amiamo e ricordiamo più volentieri sono i versi. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Guarda e passa, e ti vado con calma. Hai le selassie, Negus Negesti, re dei re d'Etiopia, ha 69 anni. Fra i molti titoli di cui si fregia vi sono quelli di re di Giuda e re di Sion, perché secondo la leggenda discende direttamente dal re Salomone, figlio di Davide e della sua moglie prediletta, Bezabea. La regina di Saba affrontò un lungo viaggio dall'Etiopia in Israele per incontrarvi il saggio Salomone e da lui ebbe un figlio, che fu il capostipite della dinastia imperiale. La vita di Haile Selassie è stata piena di momenti burrascosi che egli ha affrontato e superato con fermezza e spesso con fortuna. Alla corte etiopica si usa il cerimoniale spagnolo, che prescrive tre inchini, uno all'ingresso, un altro a metà del salone e il terzo dinanzi al sovrano. Abbiamo ripreso questa cerimonia della consegna delle credenziali del nuovo ambasciatore del Ghana, mentre eravamo ospiti con la troupe DRT del Palazzo del Giubileo. Un anno fa, mentre Haile Selassie era assente, la guardia imperiale cercò di impadronirsi del potere. I ministri del governo in carica furono trucidati a colpi di mitra. I ribelli affermavano di voler modificare le vecchie strutture dello Stato, ma l'esercito rimase fedele all'imperatore e dopo tre giorni di battaglia riuscì a battere i rivoltosi e a catturarli in gran numero. Al suo ritorno Haile Selassie graziò i soldati. I due capi della rivolta, il generale Mangestu Nuai, comandante della guardia, e suo fratello, furono condannati a morte da un tribunale civile e impiccati nella piazza principale di Addis Abeba. A un anno di distanza dal colpo di Stato, la guardia imperiale è stata riorganizzata. Nei parchi del palazzo del Giubileo, i turisti sono ammessi a visitare gli chalet, passeggiano nei viali e scattano fotografie nei recinti, dove vivono gli animali del piccolo zoo privato dell'imperatore. Questi gattopardi sono assolutamente innocui, come dei grossi gatti. Tutte le mattine Haile Selassie esce per una breve passeggiata, con i suoi cani preferiti. Porta al braccio il lutto per la recente scomparsa della moglie Menem e del figlio più giovane, Sale Selassie. La sua vita ora è quella di un uomo solo. Gli fanno compagnia i quattro nipoti e quattro orfanelli, che ha raccolto durante i suoi viaggi nelle province dell'impero. Li ha portati qui, dove vengono educati e trattati come i principi del sangue. Grazie. 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 Grazie.